Buonasera a tutti, benvenuti, siete tantissimi, vedendovi così numerosi a un incontro di questo genere, mi è venuto in mente uno dei cartelloni che vedete sull'autostrada arrivando prima, che parla di tutti i cittadini, città, della cultura, dell'arte e della scienza. La vostra presenza qui è un'illostrazione di questo cartello, un monumento, arte e scienza. Vorrei dare un'idea brevemente di cosa sarà, cosa succederà qui oggi in Regio. Il professor Stuart Isenhoff, autore di un libro che ha avuto un successo incredibile, incredibile soprattutto in rapporto all'argomento, il temperamento, si dice del temperamento, adesso non oso ancora usare termine equabile, ma poi di questo parleremo, storia di un elitmo musicale, è un argomento abbastanza specifico, piuttosto scientifico, qualche volta non facile, non uno scuro ma complesso. Beh, questo libro ha avuto una diffusione, un successo incredibile, che io posso certificare a titolo personale, perché l'ho letto tutto d'un fiato. La sua espressione è vasta come quella dell'orchestra. It allows ten tones, and sometimes more, per me di risonare dieci o nove volte di più, to be struck simultaneously, conti l'orchestra. And help in the air, and the other's spirit. E l'inizio è qualche telepistro, che sono legate nell'aria e alla monta. It can growl and sing and be time. Può segnare tempo, come cantate, e le dimenti, può anche ruggire. It can play rock, fumes, and then you see, it counts, with even naturalness. Può suonare una futura, quella che deve razionare se di Dio sé, e di sì, con uguale l'autorezza. And it still works. And it still works. Now we're a tutti i casi, per funzionare ancora. Per un'altra seconda parte, un'efficacità che ci sono fatta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.